adesso devo dirti la cosa più importante tra due messi combatterai c'è un torneo no c'è il torneo hai detto che non allenavi più a livello professionistico difatti combatterai allo stambring incontri clandestini stambring e box pura box incontrerai pugili migliori in circolazione combatterete duramente ma con onore secondo le regole del marchese di queensberry che quante domande chi 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 devi fidarti di me michele se accetti nei prossimi due mesi dovrai alternarti come se dovessi batterti per il titolo mondiale la sola differenza è che non ci godinerai niente nessuno sa chi organizza lo stambring l'ultimo c'è stato dieci anni fa il principio dello stambring è questo i titoli mondiali non corrispondono quasi mai al reale valore dei pugili allo stambring non esistono i punti si vince solo per knockout il vantaggio di essere un emarginato hai finito 30 minuti corsa quando si parte fa dieci giorni a gorson in polonia ascolta michele tu sei uomo loro sono uomini loro hanno il pugno la tecnica tu hai il pugno è questo finalmente è arrivato il momento di capire se sei un vero pugile hai dimenticato michele se arriverai all'ultimo match vorrà dire che il mio lavoro con te è il pugno è il pugno di capire se hai il pugno di capire se sei un vero pugilio il pugno di capire se fosse un percorso di perciai il pugno di capire se uomini dovuta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.